Bentornati amici, siamo qui oggi per parlare di uno shooting un po' diverso dal solito. Infatti se fino a ora vi ho fatto vedere delle cose che erano per lo più attinenti al mondo del lavoro vero e proprio, oggi vi faccio vedere qualcosa di decisamente più artistico. Sigla! Come vi dicevo, shooting completamente diverso oggi. Stiamo parlando di una band, quindi argomento completamente diverso perché non siamo più nel ramo prettamente lavorativo, ma siamo nell'ambito un pochino più artistico, per quanto riguarda loro ovviamente, perché io non faccio arte, ricordatevelo, io sono un artigiano. Parliamo di una band metal attiva per lo più in Lombardia, ma che in realtà ha fatto i suoi bei tour, quindi una band diciamo quasi un po' internazionale, perché comunque i suoi giretti se li è fatti, loro sono i Chronosphere di Michele Olmi. Lo shooting che viene richiesto serve semplicemente per presentare il nuovo progetto della band, quindi è uno shooting sostanzialmente di ritratto, dove poi verrà fatta della post-produzione, volendo anche un po' invasiva, ma fondamentalmente si tratta di uno shooting di ritratto. Come vi dicevo, l'obiettivo di queste foto è semplicemente presentare il nuovo progetto della band, quindi nuovo disco, nuovo tour, eccetera eccetera. Le immagini da utilizzare sui social, che sono l'unico mezzo con cui una band, un musicista, un artista può proporsi ai giorni nostri, devono essere continuamente aggiornate. In questo modo si riesce ad avere una presenza stabile e costante, in modo tale da accapararsi quanti più concerti possibili, perché ricordiamoci che una band esiste e vive in quanto produce un disco, fa un concerto e vende il suo disco a quel concerto. Il meccanismo è questo ed è molto semplice. L'obiettivo quindi è semplicemente rinfrescare la presenza sui social della band e avere delle immagini ufficiali per la presentazione del nuovo progetto. Andiamo a vedere come si svolge lo shooting vero e proprio. Siamo in uno studio piuttosto piccolo, quindi lo spazio non è tantissimo. Abbiamo allestito un backdrop nero e un backdrop bianco, che alterniamo a seconda di quello che stiamo andando a fare, perché le foto avranno due scopi principali. Dovranno essere utilizzate scontornate per creare un artwork e dovranno essere consegnate scontornate alla grafica della band in maniera tale che vengano utilizzate nel booklet. Quindi abbiamo optato per una soluzione ibrida, sia bianco che nero. In questo modo siamo in grado di offrire un doppio servizio, nel senso che nel momento in cui queste fotografie verranno utilizzate su uno sfondo chiaro, verranno utilizzate quelle con lo sfondo bianco. Se invece queste fotografie dovranno essere integrate in un artwork con uno sfondo scuro, verranno utilizzate quelle scattate con lo sfondo nero. Per quanto riguarda l'illuminazione, abbiamo utilizzato le nostre torce Godox con i modificatori del caso, che in questo caso erano l'Octabox da 80 mm, che utilizzo quasi sempre per i miei ritratti, era la luce principale, quindi la luce che illuminava i soggetti. Alle spalle dei soggetti avevamo ben due strip box da 60 cm, sempre della Godox, che servivano come luce kick, proprio come quelle che sto usando io in questo momento. una luce da dietro, un po' laterale, che serve a evidenziare i tratti del soggetto, soprattutto sul sfondo nero, perché altrimenti il lato scuro, luce principale, vedete da questa parte, le ombre sono di qua, il lato scuro tende a fondersi con uno sfondo nero, invece con una luce kick si tende a portare fuori i tratti della persona su questo lato, e quindi la persona si stacca meglio dallo sfondo, ed è anche più facile scontornarla successivamente. È molto importante quando si scatta tenere bene a mente quale sarà l'obiettivo finale delle immagini. Io sapevo che dovevano essere scontornate, e quindi non mi interessava tanto lo sfondo. Ho messo uno sfondo scuro e ho messo uno sfondo bianco, ma per facilitarmi il lavoro, perché sapevo che poi avrei dovuto fare uno scontorno di un certo tipo. Avrei potuto usare anche il grigio, ma ho preferito optare per questa doppia soluzione, perché se l'artwork prevederà uno sfondo molto chiaro, le foto bianche saranno molto più facili da lavorare per quanto riguarda i capelli, soprattutto. Uno scontorno sul corpo è facile da fare, ma sui capelli è molto importante avere un colore simile a quello che verrà utilizzato poi per davvero nell'artwork. E questo fa veramente la differenza, perché quando scontorniamo i capelli, si vede se abbiamo usato i metodi di fusione, quindi se i capelli sono miscelati bene nell'ambiente che hanno dietro, oppure se sono tagliati con l'accetta o con lo strumento lazzo. Si vede molto bene questa differenza. Anche, com'è che si dice? Anche un non addetto ai lavori può notare questa differenza. Non è che se ne accorge, nel senso che sa dire esattamente cos'è, che non è andato per il verso giusto, però si ha una sensazione di qualcosa che non è andato per il verso giusto. Quindi secondo me è importante offrire questa doppia possibilità, anche perché in questo caso parte del lavoro l'ho eseguito io fino alla fine, ma parte del lavoro verrà eseguito da un'altra persona, che è la ragazza che si occupa delle grafiche della band. Per offrire a questa persona il materiale migliore possibile, abbiamo cercato di lavorare in maniera tale da darle dei file d'uscita eccezionali. Per questo motivo abbiamo utilizzato la Canon EOS 5D Mark IV, una camera che ha dei file d'uscita stellari, al momento delle camere che ho provato io senza uguali, nel senso che è la migliore che io abbia mai posseduto e provato. Non ho provato delle Hasselblad, questo lo devo confessare, però per quello che posso dire io questa camera veramente ha dei risultati eccezionali, un file d'uscita in RAW che si può maltrattare veramente tanto senza caduta qualitativa. Inoltre delle immagini veramente molto grandi, una cosa che ho notato di questa camera è che ha un file d'uscita un po' morbido, nel senso che ti lascia la possibilità di lavorare molto sulla sharpness in post-produzione, quindi si rende necessario farlo perché altrimenti il file d'uscita così di per sé è un po' morbidino. Per questo motivo ho creato il preset di Camera RAW e di Lightroom che si chiama Sharpening 5D mi sembra, non mi ricordo neanche esattamente come l'ho chiamato, un preset comunque che vi lascio in free download sul mio sito, potete scaricarvelo. Se state lavorando con una fotocamera dai 20 megapixel in su, questo preset potrebbe aiutarvi molto a tirare fuori più dettagli dalla vostra immagine. Ovviamente non fermatevi al preset come l'ho fatto io, perché quel preset l'ho fatto io, permesso di fare i miei bisogni, provatelo, modificatelo e salvatelo come vostro, in maniera tale da avere il vostro preset con un'impostazione che rispecchi sempre le vostre necessità. Questo preset io lo applico al 99% dei miei shooting, anche quando non ho usato la 5D in realtà, lo applico anche alla 6D, lo applico anche all'80D, lo applico a tutte perché mi tira fuori quella nitidezza che io voglio in un'immagine, che poi posso andare a modificare, però di partenza è quello che io desidero in un'immagine, quindi assolutamente consigliato. Ovviamente, avendo parlato precedentemente con la band, una cosa molto importante che va detta sugli shooting di ritratto per le band è stabilire prima quale sarà il mood delle fotografie e stabilire anche quale sarà la posa che ognuno dei musicisti vorrà assumere. In questo caso non c'era chissà quale posa strana, la maggior parte delle pose sono abbastanza statiche, con un braccia incrociate o piuttosto che un mani sulla cintura o cose del genere, quindi lievemente di tre quarti, mai proprio frontale, con la luce posizionata alla bisogna. Sono pose semplici, ma è importante stabilirlo prima, perché quando un cliente arriva lì e non ha la minima idea di come mettersi, diventa difficile anche per me suggerirgli una posa, perché avremmo dovuto parlarne prima in maniera tale che tutti e due sapessimo qual era la posa migliore da adottare in quel contesto. Ovviamente in questo caso questo lavoro di preparazione è stato fatto, quindi ne abbiamo parlato prima, sapevamo già come ci si doveva mettere una volta arrivati lì. Le fotografie realizzate alla fine sono state poche, perché c'era stato un lavoro alla base in cui si era già stabilito come ci si doveva mettere e anche quasi come ci si doveva vestire, nel senso che ognuno dei musicisti ha un proprio stile riconoscibile, un abbigliamento che lo contraddistingue sia sul palco che nelle comunicazioni che fanno, quindi non ci sono stati cambi particolari, è stato forse un cambio di giacca, una persona che ha cambiato la giacca ha fatto con la giacca e senza la giacca, per il resto si era già deciso tutto. È molto importante questa cosa, decidere già le cose in anticipo ti permette intanto di fare più in fretta, quindi si finisce prima, si lascia libero prima il cliente, ci si può mettere prima a fare altro. In secondo luogo si lavora anche meglio dopo, perché se io non so quello che sto facendo e dico portate tutto, portate tutto il guardaroba, facciamo centomila foto e poi scegliete. È un disagio per tutti, è un disagio bestiale. Per me prima di tutto perché devo fare un milione di foto, e poi anche per il cliente perché poi gliele devo mandare, quindi se le deve scaricare. Io ho un computer prestante, il cliente non è detto che abbia un computer prestante, e il nostro cliente potrebbe non avere un computer, potrebbe anche avere solo il telefono. E quindi che cosa facciamo? Gli mandiamo 400 foto su WhatsApp, a gruppi di 30, perché WhatsApp le consente solo a gruppi di 30, oppure gli mandiamo un WeTransfer da 20 giga che si deve scaricare sul cellulare, che non ci sta, e non lo può zippare perché pesa troppo. È un disagio. È molto meglio scattare di meno, anche perché ricordiamoci che stiamo scattando con una 5D, cioè sono file pesanti. Una fotografia di queste qui può arrivare a pesare 30-40 mega, quindi pesa questa roba, è meglio farne poche. Così non ci ammazziamo la macchina, noi quando le scarichiamo e le lavoriamo, e non ammazziamo la macchina al cliente quando gliele mandiamo per la selezione. Tutto questo lavoro di preparazione è servito quindi sia a lavorare in maniera più snella, ma anche a avere dei clienti che arrivano già preparati su come si devono mettere e su quale sarà il risultato finale. Abbiamo anche già concordato quali saranno le proposte di artwork, quindi io so bene o male che devo consegnare le foto a sfondo chiaro alla loro grafica perché deve metterle nel booklet, e so anche che devo utilizzare io le foto a sfondo nero per realizzargli un artwork composito, quindi una fotografia dove tutti i membri della band stanno schierati con dietro uno sfondo che viene scelto successivamente perché al momento dello shooting io non avevo in mano lo sfondo. Io preferisco avere in mano lo sfondo quando faccio le foto normalmente perché se so di che colore è lo sfondo, di che colore deve essere la resa finale, posso fare delle scelte riguardo allo sfondo più incisive. In questo caso ci eravamo detti che era uno sfondo notturno, generico, e quindi ho optato per uno sfondo nero e poi ho trovato un fondale che andasse bene con le foto che avevamo fatto. Le foto vengono ovviamente scattate in verticale, modalità portrait. Come ben sapete io non amo scattare in verticale, però ci sono dei casi dove è la cosa migliore da fare perché se io sto facendo un ritratto e io ho la mia persona che occupa il centro del frame, di avere tanta aria sui lati, sono tutti megapixel buttati. Invece se io riempio per intero il mio frame, quindi verticalmente, metto la persona in verticale, avrò una foto più grande. Significa anche una qualità maggiore questa perché ho buttato meno megapixel e quindi la mia foto è più grande. Questo non è tanto importante ai fini semplicemente di avere un'immagine più grande. È importante nel momento in cui la lavoriamo però perché quando io vado a fare uno scontorno, soprattutto nei capelli, se ho più megapixel, se ho una risoluzione maggiore, vado a lavorare meglio su quella che è la selezione. Vado a fare una selezione migliore, vado a pennellare con i metodi di diffusione, a tirare fuori un dettaglio maggiore nei capelli e vado a miscelarlo meglio con lo sfondo piuttosto che un'immagine con meno risoluzione. Quindi questo è importante quando facciamo uno shooting di questo tipo, riempiamo bene il nostro frame, calcoliamolo giusto in maniera tale da avere magari un pelino di margine nel caso dovessimo ritagliare qualcosa. Questo va bene, però cerchiamo di stare abbastanza stretti per avere la risoluzione maggiore possibile. Se abbiamo un frame gigante e il nostro soggetto è piccolino così all'interno del frame, abbiamo buttato via tutti i megapixel intorno, avremo una foto che sarà molto piccola, poteva essere molto più grande il soggetto, riempire di più e avremo avuto una risoluzione finale maggiore. In questo caso a me non serve una risoluzione stellare perché poi queste immagini vanno schiacciate e messe all'interno di un booklet che è 12x12 fondamentalmente, quindi verranno utilizzate per i social e poi verranno messe in un formato 12x12, quindi 24x12 nel caso siano le due pagine. È un formato tutto sommato piccolo, la 5D fa delle foto molto più grandi rispetto a un 12x12, quindi in realtà ho risoluzione da buttare letteralmente, ma preferisco fare comunque la post-produzione e la lavorazione sul formato più grande possibile. Questo proprio per questi due motivi, ovvero primo lavoro meglio, sto lavorando meglio, lavoro in qualità, vedo meglio quello che sto facendo, ho più possibilità di agire perché non ci sono i pixel che stanno incollati uno sull'altro, ma ho addirittura delle sfumature tra dove finiscono i capelli e dove comincia lo sfondo, tanta è la risoluzione, quindi posso andare ad agire in maniera più incisiva, posso fare un lavoro migliore. In secondo luogo, se un giorno la band dovesse saltarsene fuori e dire ah abbiamo cambiato idea, facciamo il vinile, eh cavolo, il vinile non è più 12x12, il vinile è bello grosso, a quel punto però io ho le immagini in qualità perché le ho lavorate grosse, così in qualità nativa, e gli posso dire ragazzi, si fa il vinile, che problema c'è, ve lo rimpagino e facciamo il formato del vinile. Questa è una cosa a cui io non è che non dormo la notte perché ci sto a pensare, però è un pensiero che mi viene, se la band volesse realizzare un poster, se volesse realizzare una maglietta, se io ho lavorato in qualità, lo possiamo fare. Se ho fatto l'errore di lavorare già in formato 12x12, mi chiedono una riedizione, mi chiedono un vinile, mi chiedono un'altra cosa, lo devo rifare da capo e devo rifargli l'uguale, è un bel macello. È meglio non mettersi in questo guaio, quindi visto che mi è già capitato non di essere in questo guaio ma di avere band che chiedevano un formato più grande, io ho sempre lavorato in qualità e quindi ho sempre potuto offrire questo tipo di servizio senza doverglielo rifare una seconda volta, era già fatto. Vediamo quali sono state le difficoltà. Sicuramente durante uno shooting di questo tipo la difficoltà principale è l'illuminazione. Nel senso, mi spiego meglio, l'illuminazione è abbastanza semplice perché l'illuminazione è standard e dovrebbe essere uguale per tutti ma proprio qui casca l'asino perché ognuno dei membri della band ha o comunque può avere delle peculiarità e dei gusti differenti. In questo caso in particolare uno dei ragazzi portava un cappello alcuni dei ragazzi avevano i capelli molto lunghi avevano magari i capelli che potevano coprire parte della faccia. Se io avessi la frangetta così vedete cosa succederebbe? Questa frangetta creerebbe un'ombra sulla mia faccia perché la luce è lì. Questa è una difficoltà perché se un membro della band ha la frangetta di qui e l'altro membro della band ha il cappello di qua bisogna spostare le luci cercando di muoverle il meno possibile ma cercando di illuminare quelle aree quindi o con dei riflettori supplementari o con dei pannelli o spostando le luci o facendo mettere la persona in un'altra posizione bisogna cercare di avere una luce più uguale possibile su tutti però che ne valorizzi i tratti perché ovviamente se un membro della band mi dice io poso col cappello e io non gli posso dire no, levatelo lui vuole posare col cappello e così bisogna fare. ovviamente il cappello gli leva la luce dalla faccia e questo non è bello per cui bisogna inventarsi un qualcosa per cui o gli si fa alzare la testa in modo che la luce arrivi oppure si mette un riflettore sotto in maniera tale che lo scavo delle ombre sia tale da riuscire a scorgere le fattezze della persona nonostante l'ombra della visiera del cappello. Tutto questo non è stato facile è stato comunque divertente perché i ragazzi sono simpatici e spiritosi e mi hanno anche aiutato molto nel senso che sono sempre stati molto disponibili nel momento in cui c'era da tenere un pannello sono stati loro per primi a mettersi in gioco e a tenermi il pannello in modo che io potessi fare la foto al loro compagno di musica in maniera tale da renderli tutti al meglio. Difficoltà supplementare ovviamente la cosa che tutti i fotografi e grafici amano di più al mondo scontornare i capelli. Ebbene sì ora per quanto riguarda la post produzione di queste immagini è stato fatto semplicemente questo è stato fatto uno scontorno semplice quindi uno scontorno con lo strumento penna uno scontorno fatto bene perché io so benissimo che se faccio bene questa fase poi lavoro sereno se la faccio con i piedi viene una porcheria quindi uno scontorno fatto bene con la penna fatto bene dove c'erano dei contorni netti quindi su tutto il corpo tranne che sulla testa sulla testa che cosa si fa? Si fa lo stesso lo scontorno puntino 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 si fa lo scontorno proprio come se i capelli non esistessero una volta che si è fatto lo scontorno si duplica il livello si creano delle maschere ovviamente e si cerca di recuperare le punte dei capelli andando a riportarle alla luce con un pennello pennellando piano piano e utilizzando un metodo di fusione che mi permetta di avere una prevalenza dei capelli sullo sfondo quindi in questo caso particolare lo sfondo era scuro i capelli invece erano illuminati perché c'era la kick light quindi la kick light mi permette di portare fuori la luminosità dei capelli contro lo sfondo scuro quindi io vado a lavorare con un metodo di fusione come screen scolora quindi vado a portare fuori la luce annullando l'ombra in questo modo riesco a tirare fuori le punte dei capelli e le mie fotografie sembrano veramente ambientate nel luogo in cui poi viene raffigurato l'artwork non si vede quel brutto effetto di fotografia ritagliata incollata che abbiamo in molti troppi artwork in questo caso si vede proprio che i capelli vanno a miscelarsi con l'ambiente circostante successivamente viene anche fatto della color grading per avere innanzitutto delle fotografie più neutre possibile e poi per miscelarle bene in quello che è l'ambiente l'ambiente viene selezionato da diverse proposte che vengono fatte alla band alla fine si sceglie questa immagine per la pubblicazione delle news relative ai nuovi progetti è un'immagine sostanzialmente neutra dove come potete vedere la fanno da principe le persone perché i musicisti vengono fuori con tutte le loro caratteristiche con una buona gamma cromatica e ovviamente con un'esposizione che è giusta perché è lavorata e pensata in studio come vi dicevo quest'artwork ha delle dimensioni veramente giganti perché è grande qualcosa come 6.000 pixel di lato ovviamente è troppo grande per quello che mi era stato richiesto che era semplicemente un comunicato social e un booklet di un cd ma io preferisco avere un formato bello grande da cui poi poter scalare tutti i formati più piccoli che mi servono in questo modo io dormo tranquillo perché so che qualunque richiesta mi venga fatta io la posso soddisfare per quanto riguarda la consegna del materiale ovviamente avviene tramite way transfer un semplice invio di ftp è uno shooting tutto sommato abbastanza leggero perché come vi dicevo le foto non sono tantissime qui si è perso magari più tempo sul mettere in posa la singola persona e studiare l'illuminazione giusta per ognuno piuttosto che sullo scattare io non faccio raffiche non sto a fare centomila foto per persona generalmente ne faccio poche anche perché dovete tener conto che è più facile anche per il cliente scegliere non è necessario consegnare cento foto a persona una band di cinque persone non consegniamo cento foto a persona consegniamo dieci foto a persona anche perché lì la trattativa è sempre un po' lasca ovvero quante foto verranno post prodotte quante no quante ne possono scegliere visto che di solito queste cose non sempre sono chiare da subito in un contesto di questo tipo ovviamente se una band mi dice guarda le foto mi piacciono tutte le voglio tutte io tendenzialmente non gli dico né te le faccio tutte né fattele fare da un altro ho sempre quella spada di damocle sulla testa perché da un lato penso se gliele post produco tutte impazzisco io perché magari sono tante se le faccio fare a un altro però e che ne so di come lavora quest'altro magari mi rovinano il mio lavoro e poi esce a nome mio e sembra che ho fatto una porcata può succedere ovviamente c'è gente brava in giro ma c'è anche gente che non lavora bene quanto lavoriamo bene noi o quanto vogliamo vedere noi i nostri lavori pubblicati quindi io preferisco sempre essere io a mettere mano sulle mie cose ovviamente non posso promettere a una band che post produrrò l'intero shooting per questo motivo preferisco fare una sana via di mezzo produco poche foto non tantissime diciamo che da questo shooting ne siamo usciti con 5 persone che avevano 10-15 foto a testa di queste 15 foto ognuno ne ha scelte 2 o 3 in questo modo io ho fatto la post produzione su 2 o 3 foto per membro della band compromesso assolutamente accettabile se in futuro mi verrà richiesta la post produzione dilazionata di altre foto credo che sarò molto propenso a fargliela perché comunque ho piacere che queste cose escano un pochino con la mia mano con quello che è quello che io avevo in mente come esito finale dello shooting se non me ne fregasse niente delegherei a altri se ci fossero altri che conosco e di cui ho fiducia e so come lavorano parimenti delegherei a loro perché sarei tranquillo tanto sulla resa finale siccome non lo sono in generale preferisco occuparmene io anche perché in quest'ambito stiamo proprio parlando di una cosa artistica quindi in questo caso a differenza degli shooting di lavoro soliti qua sì che uno ci può mettere un pochettino più di se stesso metterci qualcosa di stilistico metterci qualcosa che lo raffiguri e lo rappresenti in questo caso questo tipo di illuminazione a me piace è l'illuminazione con cui ho iniziato ad approcciare la fotografia di studio quindi non dico che sia caratteristica del mio stile perché è caratteristica dello stile di centinaia di migliaia di fotografi però è una cosa che io so che rende molto bene e quando le band vengono e mi chiedono un lavoro di questo tipo io lo faccio non dico sempre uguale perché ci sono sempre delle differenze però tendo a rispettare uno standard che è quello che la band vuole vedersi consegnato ed è quello che effettivamente gli consegno alla fine del lavoro è un qualcosa che può sembrare molto standard può sembrare molto statico anche ma di solito soddisfa l'aspettativa e quindi funziona in questo caso non si può parlare di foto preferita perché sono stati realizzati una serie di ritratti io non ho una foto preferita all'interno di questi ritratti vi parlo semplicemente del risultato finale è una bella immagine un'immagine che assolutamente non mi fa sfigurare e che pubblicherò presto anche sui social per fare un po' di pubblicità alla band aspetto un po' di tempo perché l'hanno appena pubblicata loro quindi lascio un po' di tempo e poi la pubblicherò anch'io perché di sicuro non mi fa fare brutta figura quindi un'immagine di cui sono assolutamente contento dobbiamo stare molto attenti al tipo di ambiente che scegliamo per lo shooting in questo caso lo studio in cui abbiamo scattato era veramente veramente molto piccolo mi è andata molto bene perché erano fotografie realizzate con una singola persona per volta può capitare che ci siano delle band che richiedono uno shooting di gruppo quindi dove sono veramente tutti insieme per questo è molto importante parlare con la band prima anche per stabilire dettagli come questo normalmente io lavoro in degli studi piccoli per questo tipo di cose perché una band non ha il budget di una grande azienda e quindi non può permettersi l'affitto di una location molto grande per fare le foto si lavora quindi in degli spazi più piccoli con un costo d'affitto inferiore con meno luci anche perché uno spazio più piccolo ha bisogno di meno luci e non può per contro ospitare tante luci in uno spazio piccolo se metto tante luci si riflette dappertutto la luce e non riesco a fare quello che vorrei quindi comunque le luci devono essere poche contenute in questo caso è un setup da tre luci tre non una di più primo perché non ci stanno e secondo perché introducendo quattro cinque luci la luce comincia a rimbalzare sui muri che sono vicini perché la stanza è piccola e a quel punto si illumina tutto e non va più bene perché io voglio delle ombre in uno shooting come questo quindi queste sono cose importanti da stabilire noi sapevamo già che non avremmo fatto le foto tutti insieme primo perché non ci stavano mantenendo i costi bassi io riesco a mantenere i costi bassi su un lavoro di questo tipo lo dico però alla band non facciamo le foto insieme facciamo le foto uno per volta questo secondo me è un plus in un contesto di questo tipo perché primo per il prezzo come vi ho già detto volete le foto tutti insieme benissimo studio più grande preventivo diverso il prezzo è molto più alto quindi già è un plus perché io riesco a tenere il prezzo più basso è anche un plus per un altro motivo però nel momento in cui io vado a realizzare una fotografia di gruppo cosa succede? io metto una persona qui un'altra persona qui e un'altra persona qui ora questa persona è più vicina alla luce quindi sta lanciando un'ombra sulla persona da questa parte questa persona qui è lontanissima dalla luce rispetto agli altri quindi avremo una persona più scura delle altre con addosso l'ombra di tutti gli altri e avremo la prima persona quella più vicina alla luce che sarà troppo illuminata nel caso di una luce Rembrandt ovviamente che però è quello che voleva questa band una luce abbastanza laterale non è proprio una Rembrandt pura però non siamo neanche troppo distanti nel caso di una luce laterale quello che succede è che abbiamo una persona con poca luce e una persona con troppa luce a quel punto dobbiamo andare a introdurre tantissime altre luci per andare a bilanciare tutto quanto e diventa molto molto complesso diventa uno shooting molto impegnativo che richiede spazi ampi e tante luci a questo punto è ovvio che il prezzo sale sarebbe anche più comodo per me perché scattare una foto singola vuol dire che con un solo click avrei immortalato tutti i membri della band però a costo di perdere tanti clienti perché gli dovrei fare dei preventivi più alti inoltre ho esperienza in quest'ambito ed è molto ma molto ma molto raro che in uno shooting di band in cui ci sono tutti quanti si scelga poi una foto con preferenza univoca cioè a qualcuno piacerà la prima foto a qualcuno piacerà la seconda a qualcuno piacerà la terza alla fine a tutti quanti piacerà la quarta tranne a uno perché proprio quell'uno in quell'unica foto aveva un occhio mezzo chiuso è difficilissimo lavorare così bisogna assicurarsi che in ogni singola foto tutti quanti abbiano reso al meglio ma questo non è possibile perché ognuno si piacerà di più in una data foto non si piaceranno mai tutti allo stesso modo nella stessa foto per questo motivo io trovo che lavorare sulla foto singola mi dia un qualcosina in più perché in questo modo io assemblo la foto in post produzione e consento a ogni membro della band di scegliere la foto in cui si piace di più questo è un grande plus perché consento a tutti quanti di rendere al meglio ognuno di loro sceglie la foto che dovrà comparire all'interno dell'artwork questo rende tutti molto molto più soddisfatti bene amici con questo siamo arrivati alla fine io spero di avervi insegnato qualcosa anche oggi quantomeno sulla programmazione di uno shooting fotografico per una band come potete ben vedere faccio anch'io qualcosa di artistico ogni tanto non è che sia sto capolavoro la foto però comunque è un ambito un po' più artistico di quello che facciamo di solito giusto? a questo punto io vi invito a mettere un like a questo video giusto per l'impegno perché ho tirato un po' di arte su questo canale vi invito anche a iscrivervi a questo punto perché se vi sono piaciute le puntate dedicate alla fotografia business vi piaceranno ancora di più quelle dedicate alla fotografia artistica e ci sto lavorando arriverà qualcosina prima o poi ma ci devo lavorare un pochino perché io ne faccio poca di fotografia artistica quindi la devo pensare apposta per voi fatemi sapere che cosa ne pensate in un commento e noi ci vediamo al prossimo video ciao